un strattone aspetta perché ha preso che se aveva il tappo siamo fottuti no vieni venga sei un pesce serio aspetta vieni vieni ogni tanto ogni tanto va mira 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 pesce della tua vita non cazzo vuoi Massimo non diventare per i coglioni te ne forza troia minchia questo ce lo facciamo in ferro glielo vi glielo vi in ferro ce lo facciamo forza troia c'è la presenza di tocca diventata come piega la casa no si è andato ma l'abbaccuolo questo è una per Grazie.